buongiorno allora ho terminato questo set che poi è un sei di sottotazze in cotone povero bellissimo non candeggiato con le sue belle inclusioni questo è il fondo cono che mi è rimasto vedete tutto lì non lo butto non lo spreco non lo caccio via mi tengo anche il cono perché mi può servire e lo ripongo dove ho le altre rocche di lino cotone insomma ho suddiviso per tipologie di fibre e per colori i materiali poi poi lo farò vedere in lo studio che si sta un po riorganizzando da sé poveraccio questo è il peso del del cono in cartone di questo cono con l'avanzino ne ho realizzate sei ce l'ho fatta ce l'ho proprio fatta sono contenta buona giornata adesso carico un pippone da mezz'ora dove chiacchierò di tante cose a presto e a presto poi vi aggiorno con le altre cose a presto